Andrea Rossini, Renault Trucks Italia e se pronuncio il nome di questo storico costruttore mi viene in mente e penso subito al progetto Refreeze. Sì, il progetto Refreeze è stato lanciato con una partnership con Lambere Italia nel corso del 2023. L'anno scorso abbiamo cominciato con pochi veicoli, a dire la verità, quest'anno il numero era più importante. Si tratta di un progetto volto ad aiutare i nostri concessionari nell'avere un veicolo in pronta consegna, soprattutto in periodi in cui la stagionalità del veicolo allestito è molto importante e si fa sentire. Si tratta di veicoli gamma T, in certi casi dotati di propulsore turbo compound, quindi con un'efficienza migliorata dal punto di vista della catena cinematica. L'offerta può essere anche stesa alla gamma di wide, può anche essere stesa alla gamma di veicoli full electric, sia della gamma T, C, D e di wide e ultimamente anche con il nuovo Master E-Tech, l'ultima chicca completamente elettrica in seno a Renault Trucks. Quindi sostanzialmente è un'offerta che abbraccia tutto il vostro portafoglio di modelli sostanzialmente. Si esatto, noi abbiamo cominciato con i modelli che hanno maggior appeal dal punto di vista e maggior richiesta dal punto di vista del mercato, però siamo già pronti ad offrire nell'ottica refreeze anche modelli completamente elettrici, dato che Renault Trucks crede fortemente nel veicolo a batteria.